Ciao Pascal, sono Pupi e voglio farti veramente i miei migliori auguri per questi 25 anni di Capri Hollywood. Capri Hollywood che ho vissuto, lo sai, con te, tuo ospite, in diverse circostanze, con diversi ruoli, portando alcune volte i miei film, portando soltanto me stesso. Ho trascorso veramente le giornate meravigliose e ho fatto degli incontri fantastici. Quello che stai facendo tu per il cinema è molto importante e lo sai benissimo. Quindi ti faccio tantissimi auguri che questi 25 anni si moltiplicano per 100. Un abbraccio Pascal.